poi fa fatica vediamo adesso Barbareschi attacco una gran parallela l'appoggio di Luppi Orduna va dietro da stesso Biribanti a serie anche Biribanti primo turno ha lavorato la battuta vediamo se c'è attira un po' di più e così arriva anche l'Ace Doi riceve il lungo però Groppi salva una mano e Luppi la mette giù va dietro da Biribanti chiude Francesco Biribanti 25 a 21 il primo set va da dietro per Barbareschi altro chiuso quello della Conal che lavora benissimo Biribanti seconda linea difficile la lavora in campo Biribanti gran palla questa la palla alta ma comunque tre metri per Orduna si va da Biribanti che passa balla il possibile più 4 Orduna la fida al centro da Oreste Luppi questo finale di sette sul 23-20 con lo stesso porcino al servizio su Grassano tre metri per Orduna lo stesso Grassano money out chiude il capitano per il 25-21 a Conal doppio 25-21 2-0 Poggio ancora di Goi vediamo se ancora primo tempo no si va da Barbareschi che passa Goi il palleggio perfetto primo tempo passa tia sommato positiva altro ace di Barbareschi c'è avuta in palleggio primo tempo lavora bene il muro di Marco Pagni allora Croppi la sua ricostruzione per Pagni la mette giù Marco Pagni per il 25-18 3-0 Conade chiusura in grande stile Ciao 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 Grazie.